Che cosa fa se sei sposta? In questo momento sta giocando tre guardie, Aslan e Bosh. Aslan quanti minuti ha in cuore questa partita? Facciamo che è finita? In linea di Massi ma se non è finita ne ha forse due di qualità dopo un riposo. Quindi cosa facciamo? Bosh da 5 mettiamo un'altra guardia ma rischiamo a rimbalzo o no? Intanto bisogna cercare in qualche maniera di arginare la furia di Gibson. Ricordatevi la gara 5 contro gli Hawks quando Gibson sostanzialmente solo assieme a Rose andò a levare dalle difficoltà e dalla fossa in cui si erano cacciati i Chicago Bulls con i titolari in panchina. Viene al di fondo per Miller. Grande palla per Haslan. Sì sì due minuti domani. Scusate scusa sbagliato io. Refuso. Refuso. Sbagliato io.